Realmente io il pomeriggio ero arrivata in Inghilterra e avevo trovato la camera soltanto qualche ora prima Quindi voi vi starete chiedendo, beh quindi qual è il problema? Il problema raga è che io ho scoperto ieri che in realtà le mie lezioni sono in the city center Quindi io ho una camera in college ma non ho le lezioni qua e devo andare in city center Raga un po' fail perché ho un po' sbagliato college ma non importa E niente auguratemi buona fortuna per oggi, adesso vi faccio vedere il mio fit e il mio make up completato Ok allora questo è il trucco completato e questo è l'outfit fatemi sapere se vi piace Adesso io vado e vi farò sapere come va, ciao ciao